Impresa ed ecosostenibilità, tematica importante per il FAI sempre in prima linea non solo per sensibilizzare la società civile alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale, ma anche nella realizzazione di esempi di attività virtuose ed ecosostenibili, quale il progetto per Casello Vara a Punta Mesco. Il FAI non si occupa solamente di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica nei confronti di quelli che sono i beni culturali e paesaggistici del nostro territorio, ma si preoccupa principalmente di promuovere delle buone abitudini, dei buoni comportamenti di tutela di questi beni all'interno di quello che è il contesto in cui sono inseriti. Nel nostro territorio poi abbiamo l'esperienza, il caso del recupero di Casello Vara, che ben si fa proprio promotrice di questa filosofia, in quanto da un lato si occupa di tutelare e proteggere quello che è un bene paesaggistico particolarmente vulnerabile, dall'altro di però portarlo nuovamente alla luce creando delle occasioni lavorative, delle occasioni di sostenibilità economica che sono preziose per il proseguio di questi progetti. Sala Gremita conferma del crescente interesse per il fare impresa nel rispetto dell'ambiente, argomento di attualità e possibile risorsa anche per il nostro territorio. Spezia Goes Green, cosa significa? Dunque, ormai le imprese Go Green sono sempre di più. Sono quelle imprese che nonostante svolgano la loro attività produttiva, indipendentemente da quello che effettivamente fanno dai prodotti e dai servizi che producono, sono quelle imprese che fanno attenzione alla tutela del patrimonio, allo sviluppo sostenibile. Questo perché? Perché è sempre più importante innovazione e sostenibilità dell'ambiente. Sono due requisiti fondamentali per un sviluppo imprenditoriale durevole. Com'è fare impresa ecosostenibile oggi in Italia ed in particolare alla Spezia? Sicuramente negli ultimi anni, grazie alle nuove normative, alle leggi, all'accordo come quello di Parigi dell'anno scorso, sicuramente le aziende iniziano a diventare sempre più sensibili al tema. E quando mi riferisco più sensibile al tema mi riferisco a una grande attenzione rispetto a queste tematiche perché gli viene poi richiesto dal mondo delle pubbliche amministrazioni, dal mondo globale, quindi dalle altre aziende, dai fornitori. Quindi ci sono meccanismi virtuosi che si sono innescati e devo dire negli ultimi anni sempre di più le aziende che ci contattano, anche sul territorio spezzino, per chiedere informazioni, per capire come possono affrontare il tema della mitigazione del cambiamento climatico, il tema della CO2 e delle emissioni all'interno della propria azienda.